Anche chiunque il più innamorato del Taranto o se vogliamo dire quelli che potevano fare dei pronostici diciamo sognando, nessuno poteva pensare che il Taranto a una giornata della fine del giro d'andata avesse 23 punti. Eziolino Capuano sintetizza al meglio la prima parte di stagione del suo Taranto ai confini della zona playoff con 23 punti dopo 18 giornate, gli stessi di Avellino, Foggia e Gelbison e a più tre sui play-out, merito della vittoria nello scontro diretto dello Iacovone contro il Monterosi griffata da Tommasini, terzo risultato utile di fila per il Rosso-Blu. Questa è una partita che ha un valore forse ancora di più di Pescara e del punto del Crotona perché poi dare continuità era importantissimo, uno scontro diretto. Questa, almeno da quanto sono a Taranto, è la partita più importante che abbiamo vinto. Tra le muramiche il Taranto sta costruendo la sua salvezza, 19 dei 23 punti nel totalizzatore sono arrivati proprio allo Iacovone. In casa nel girone C hanno fatto meglio solo il Catanzaro con 27 e il Crotone con 25, merito anche della capacità di cambiare partite e moduli in corso d'opera come successo nell'intervallo del match contro il Monterosi. Un allenatore deve essere anche capace di cambiare, altrimenti, voglio dire, non è un allenatore di calcio, per me l'allenatore è colui il quale legge la partita, quello è l'allenatore in primis, cioè l'allenatore deve avere la lettura della partita perché a livello didattico sì, però è normale che io rifarei le stesse scelte iniziali e rifarei tutte le scelte che ho fatto tra il primo e il secondo tempo. I 23 punti oggi in cassaforte il Taranto li ha messi insieme dalla quarta giornata in poi, dopo la falsa partenza con zero punti in tre turni e l'arrivo in panchina di Capuano al posto di Nello di Costanzo. Noi si è vinte sette partite, se non vado errato, giusto? Sette partite sono tante e si meritava anche di più in qualche partita. Bisogna vedere questi ragazzi come si allenano durante la settimana. Se uno vede come si allena la squadra allora capisce il perché il Taranto riesce a fare questi risultati. Fermo restando che noi sia una squadra giovane, molti giocatori secondo me sono di prospetto e attenzione a ciò che dico. Non c'è stata una partita che abbiamo giocato senza 5-6 giocatori. Testa al prossimo turno a chiudere il girone di andata sarà Messina-Taranto per Capuano, sarà ritorno da ex in Sicilia dopo l'esperienza della scorsa stagione archiviata con l'esonero dopo due mesi. Messina ha rappresentato un percorso importante della mia carriera, una grande piazza. Ci vado consci che giochiamo contro una squadra forte che è in difficoltà e quindi per noi dovremo preparare benissimo la partita senza assolutissimamente nessuna, non voglio dire rancore, nessuna no. Ci torno con piacere.